Pier tu un angiulì, è ben vestito, ben tenato da un padre di un angiulì ma poi a te don'è c'ha da un caldo salto caro pur tu lì e delle olpe che te vede da un pepeuse al picicישo altra bomba, altra bomba, altra bomba, altra bomba ari ma anche a te se lo aveva ciornato ah, 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 e poi no malbari con l'astucia Un giorno, un giorno, un giorno. Un giorno, un giorno, un giorno, un giorno.